Il sindaco di Milano Giuliano Pisapia è convinto che sul registro delle unioni civili la sua giunta resti compatta e che il documento sarà approvato entro l'anno. Ci sono discussioni e confronti, ha detto durante la presentazione di una proposta di legge sulle unioni civili, ma c'è un impegno e voglio rispettarlo. Mi assumerò le mie responsabilità, scrive in una lettera il capogruppo PD regionale Luca Gaffuri che sarebbe pronto anche al passo indietro dall'isola di Cosa scritto ai colleghi del partito per mettere un punto sulla vicenda in cui è diventato involontario protagonista dopo l'assenza di mercoledì al voto di sfiducia contro Formigoni. Uno studente è stato denunciato a Bollate per aver picchiato un insegnante. La docente, 61enne, è stata prima insultata, poi presa a pugni dal giovane 14enne che le ha fatto un occhio nero. La disputa è nata perché il giovane girava in bicicletta sul palco della scuola e il ragazzo veniva già seguito dagli assistenti sociali. Traffico di droga, la Guardia di Finanza ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Milano nei confronti di 13 persone accusate di traffico internazionale di sostanze stupefacenti e spaccio nei locali della Movida milanese. In Toscana, denunciate 39 persone, sequestrati circa 25 kg di cocaina, 200 kg di sostanza da taglio e tre autovetture. Allarme per il verde in città, il comune è costretto a tagliare 133 alberi. La causa? Il tarlo asiatico che sta intaccando platani, betulle, aceri e olmi dalla periferia al centro. La soluzione naturale è una vespa predatrice che mangia le larve e sarà in azione da luglio. Un uomo di 38 anni è stato arrestato la scorsa notte a Milano perché trovato in possesso di 63 carte di credito. Due agenti di polizia lo hanno bloccato. L'uomo aveva con sé un marsupio contenente molte carte con i codici PIN scritti sul dorso. Dopo la perquisizione nella camera d'albergo dove pernottava da un paio di giorni, sono state trovate altre carte di credito, 63 in totale. Il collettivo Macau si prepara una nuova occupazione. È già stata annunciata via internet per domani mattina l'intenzione dei giovani, ma resta top secret il luogo dell'incursione abusiva. Grande successo per Bruce Prinsting a San Siro. La prima tappa del Wrecking Ball Tour ha mandato in delirio i 60.000 fan a corsi con le canzoni di sempre. Il boss ha anche dedicato un pensiero ai terremotati.